Ciao ragazzi e bentornati, bentornati, day after Napoli-Juventus, son con il buon Rome. Ciao Rome, come stai? Aspetta che mi metto a posto perché davanti ai tuoi follower, ai tuoi seguaci, ai tuoi iscritti bisogna essere sempre al top. Buon inizio di settimana a tutti, pur non essendo un buon inizio di settimana. Beh, effettivamente i risultati questo dicono, Napoli 2, Juventus 1. Ma al di là della partita e dei risultati, che poi si iniziano a fare notizia perché questo risultato si aggiunge ad altri risultati negativi al momento, ci sono anche tante altre cose di cui parlare, per cui io ti dico, prima domanda, a piacere come si fa spesso negli esami, da dove vorresti partire nell'analisi? Cosa vogliamo spulciare? No, ti dico la verità. Ho letto tante analisi su questa partita, sui social, sui giornali e tutto. Però io devo dire che secondo me è stata una delle migliori Juventus 2024, della via del nuovo anno. Cioè, io sono stato molto critico, lo sai, lo sapete, nei confronti della Juve, come potevano esserlo nelle ultime cinque gare. In questa sesta... Cioè, ragazzi, la Juve ha sbagliato impossibile. Abbiamo creato 7-8 palegol nitide. Cioè, abbiamo creato più in questa partita che non in tutte le altre sommate. Sì, io non me la sento di dire che la Juve abbia fatto una brutta partita. Poi, è chiaro, ci sono sempre delle situazioni dove sei passivo e prima o poi il gol lo prendi, infatti l'hai preso da Kvare in una situazione dove ti era abbassato molto, dove non sei stato lucido, preciso. Ma se noi andiamo a calcolare e ad analizzare le chance che ha avuto la Juve al Maradona, sono pazzesche. Tre di Vlaovic. Una di Lugani. Una di... Cambiaso. Cambiaso. Poi c'è quella roba di Chiesa che segna. Sono sei occasioni nette, nitide da gol. Più altre due situazioni in cui la Juve è stata pericolosa, un passaggio millimetrico sbagliato, il due con... Miretti che ha campo aperto, cerca la conclusione che se la dà Cambiaso va di nuovo in porta. La Juve ha avuto sette, otto situazioni pericolosissime a fronte di quante del Napoli. Cioè, nel primo tempo il Napoli non calcia mai se non con Kvara. Nella ripresa abbiamo subito tanto. No. Cioè, onestamente è un risultato... Ozymane, ozymane, si è procurato il rigore ma per tutta la partita è stato un ectoplasma. Ha fatto la lotta con Bremer. Un po' di sportellate. Ma, onestamente, è un risultato bugiardissimo. Davvero bugiardo. Chiaro. No, lo sono d'accordo. Infatti ha detto, non mi va stavolta di farne un discorso su Allegri, eccetera. Noi paghiamo. Noi usciamo dal campo con una sconfitta da un certo punto di vista immeritata. Dall'altro punto di vista, invece, è pienamente meritata. Perché se hai tutte queste occasioni e non le sfrutti, se hai un atteggiamento così passivo, anche in occasione del rigore, cioè, nei dettagli, tu perdi la partita e la perdi meritatamente. Anche se, nel complesso, in realtà, per la prestazione la Juve sicuramente non meritava. Calcio da, calcio toglie. Rugani al 94esimo col Frosinone fa un gol difficilissimo. Lugani con il Napoli ha una bella occasione e in controbalzo non la becca bene. Calcio da, calcio toglie. Certe volte è tenata bene con la Salernitana, con il Verona. Con il Verona no, perché poi c'era un gol buono di Kent. Però, questo, beh, certe volte riesci a portarla a casa, speculando, altre volte magari meriti, come meritavi a Napoli, perché la Juve meritava di vincere, invece è perso. Chiaro. Allora, io voglio, invece, soffermarmi sugli aspetti che ho toccato anche stamattina nel video. Volevo chiedere un po' la tua opinione. Inizierei subito da Chiesa Esterno, che quasi trova il gol nella sua posizione ideale. Da destra, segna, trova il gol. Allegri deve avere più coraggio per le prossime provare sto Benedetto Tridente. Ma, sì, nel senso che poi io non sono un allenatore, quindi non mi permetto di dire, deve fare così, deve fare così. No, ma tu lo vedi meglio, comunque, a livello di pensazione. No, ma, secondo me, ora bisogna cercare di dare un po' di entusiasmo, perché siamo entrati in una fase in cui, anche se fai performance, come è fatto a Napoli, non minci. O comunque, fatichi tremendamente a portare... D'altra parte, quanti punti ha fatto la Juve? Ne ultimamente. No, pochissimi. Ha fatto cinque punti nelle ultime sei. Sì, 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 perché Vati sta guardando nelle ultime cinque, abbiamo tre sconfitte, un pareggio e una vittoria. Cioè, è una media retrocessione, la squadra che lotta per salvarsi. E quindi, secondo me, devi cercare in questa fase, no, di spronare un po' il gruppo, dare un po' di entusiasmo. Che Chiesa faccia gol partendo dall'esterno non è un caso. Io ho sempre detto che mi trovo anche da una parte del ragionamento delle leghe, quando lui dice che Chiesa è uno da 14-16 gol, no? Io sono abbastanza... Per me Chiesa ha tanti gol nelle gambe. Però non è un caso che questo, quando vai in nazionale, fa l'esterno del migliore dell'Italia, nelle ultime due gare. Ieri lo metti un attimo là e comunque fa gol. Perché lui ama l'ampiezza, ama centrarsi, vive di cambi di direzione, vive di scatti, vive di nervi, un giocatore che strappa. E quando tu lo metti in una posizione più defilata, anziché andare a imbottigliarlo, lui trova spazi che per via centrali non riesce a trovare. Non riesce a trovare. Sono d'accordo. Altra cosa che invece abbiamo un po' criticato a Legri, l'hai fatto credo anche tu nei commenti, la gestione di Nonge ieri in questa partita, che intanto entra anche, ed entra anche abbastanza bene, perché ci mette lo zampino nella costruzione del gol della Juve di Chiesa. Poi commette un errore stupido, di ingenuità. Ho fatto anche quel bel numero su Anghissà, che meritava il giallo, secondo me. Ah, vero. Quando gli sposta la palla e Anghissà lo butta a terra. Sì. Anche qua poi la gestione dei cartellini dell'arbitro Mariani. Pessima, pessima. Un po' troppo agitato è entrato. Diciamo anche Locatelli, calma, calma. La munizione di Valavic è fuori dal mondo, e tra l'altro è pesante perché gli costa la partita quella tanto. Cioè non capisco il ragionamento. Un, due, tre, tre falli su Quara, paghi tu. Esatto. Cioè perché? Guardate, infatti è stata una roba più a tutela di Quara che non ha per la gestione della partita stessa. Non l'ho capita io sta cosa. Comunque, dettagli. Però Nonge viene messo in campo. Dopo l'errore, tolto. Io mi sono fatto un'idea... Per me la cazzata più grande è, ormai hai fatto l'errore. Peggio di quello cosa puoi fare? Vai e ti rimpugna l'arbitro. Quella è la cosa peggiore che puoi fare rispetto all'errore che hai commesso per la partita. Tanto la partita hai fatto quell'erroraccio che costa il rigore, eccetera. Poi loro segnano, vanno in vantaggio. Hai solamente da risalire. E invece lo toglie. Lo toglie per poi mettere chi? Danilo. Perché ricordiamo, entra anche Milik ma entra per Alcaraz. Quindi leva, svuota quasi il centrocampo, Allegri e divide la squadra in due tronconi. Difesa, attacco essenzialmente. Perché eravamo... Cioè, ormai era finito tutto. Era sparito qualsiasi barlume di schema di gioco, di senso, tattico, nella partita. Che idea ti si è fatto? Innanzitutto Nonget non deve chiedere scusa a nessuno. Bravo. Infatti anche il post su Instagram. Tanta umiltà, ma qualcuno dovrebbe dire anche a me. Non devi chiedere scusa a me. Io ho visto calciatori su calciatori nell'ultimo triennio, ma non sono negli anni più recenti della Juve, commettere errori su errori su errori. Alessandro che regala la Supercopa all'Inter. Non capisco perché Nonget debba, come primo pensiero, svegliarsi e postare sui social alle scuse. È un errore, è un errore di... Anche, se vogliamo, di gioventù. Bravo anche Ozyman, eh? Ozyman quel rigore lì se lo porta a casa spesso e volentieri con avversari anche più navigati. Quindi sicuramente lì Nonget sbaglia a intervenire perché non era una posizione particolarmente incandescente e al tempo stesso c'erano altri due compagni vicini. Però, come ho scritto sui miei social, non è che possiamo attribuire la sconfitta all'episodio. Cioè, come quando continuiamo a dire eh, se Vlaovic avesse stoppato bene quella palla con l'Inter. Avresti perso lo stesso perché poi Cesni ti fa tre miracoli. Sicuramente, per come è andata la partita, è un episodio pesante perché magari il pareggio l'avresti portato a casa ma non abbiamo la controprova, eh. però, eh, che lui debba... non c'è, vale tutto il discorso che abbiamo fatto sui giovani. Sui ining, sui minetti. Cioè, quando sbagliano giusto farlo notare, è doveroso. Ma, eh, io riparto dall'apertura per chiesa che poi porta all'uno a uno dal numero che ha fatto su... su Anghissà. Quindi, beh, ora, colpevolizzare questo ragazzo, metterci lì e sparargli addosso, è un esercizio che trovo inutile per lui, per il suo bene, ma anche per la stessa Juventus. Cioè, ragazzi, ma che ragionamento è? Sono, sono stra, stra, stra d'accordo e condivido anche le pause su questo aspetto. Poi, sempre soffermandomi sulla partita, Vlaovic, le partite... cioè, le parole dopo la partita. Che idea ti sei fatta anche là? Io le apprezzate perché fa tanta autofisca, eh. Sì, qua, è normale che lui debba fare autocritica perché non è non c'è. Non è un 2005, è l'attaccante titolare della Juve, un giocatore che poi è stato pagato tante milioni, bla bla bla, tutto ciò che già sappiamo. Quindi, le parole le ho trovate molto mature. Sebbene, io non è che siamo un amante delle scuse, cioè... Te ne fai poco, effettivamente. Eh, sì, cioè, alla fine della fine, dopo che mi chiedi scusa, hai sbagliato tre golo, Milik, che mi chiede scusa, ma ha fatto saltare in aria l'ambiente con quel fallo contro l'Empoli, o non c'è, mi chiede scusa, ma il rigore... Ormai è stato calciato, respite, gol, quindi... No, mi sono piaciute le parole nella visione di se stesso, cioè... Sì, sì. Devo migliorare, cioè, per essere il livello che devo arrivare, devo fare sti gol. Devo dire che ho rivisto le tre situazioni. Palo non puoi dire niente, l'ha defilato, è stato sfortunato. Colpo di testa poteva fare meglio, ma non era facilissimo, è l'altra l'occasione che sbaglia, perché lì, secondo me... La fretta. Deve portarsi la palla un po' più avanti, c'era tutto lo spazio, te la potevi mettere tranquillamente, no? Sul tuo piede forte. Non so se hai visto gli highlights di United City. Sì. Hai visto come segna nella stessa più o meno situazione Holland? Ecco, Vlovic cerca la botta sul primo palo, se gli viene la calma la placida di stoppare, porterassela avanti, piattone sul secondo palo, hai gol. Poi la gente continua a DME, ma ragazzi, voi non potete salire e scendere a carro di Vlovic. Io non scendo. Mai sceso. Vlovic è stato colui che ha trainato la Juventus nei momenti di difficoltà, poi adesso c'è un po' la storiella, ma con un po' quella di Dybala, no? Fa sempre gol, ma le squadre basse di livello quando si alza Inter-Napoli non segna. Io me lo tengo. Parle, con l'Inter ha segnato e comunque dettaglio, con l'Inter ha segnato me lo tengo, mi tengo come stia maturando, anche la... perché noi tante volte lo abbiamo bacchettato, un po' troppo nervoso, un po' troppo frenato. Io lo vedo molto più presente ultimamente alla Juve, nelle azioni, nel campo. Anche più tranquillo, lo vedo più sereno di testa e quello fa la differenza. Poi ovvio ieri gli episodi pesano. Però ne parli perché le sbaglia, non ne parli come l'anno scorso, ti ricordi? Ah, non azzecca un cross, non azzecca un passaggio, non azzecca lo stop. Invece no, da quel punto di vista è nella partita lui. Poi ti può sbagliare la situazione, il gol. Poi raga, non è Treseguet, eh? Eh no. No, ma anche come caratteristiche dico, cioè non è uno che tocca una palla e fa un gol. Vlaovic è uno che tendenzialmente... Deve toccare un po'... È un po' l'Aland, perché, se non ti vedo le statistiche su Aland, Aland è uno che... Anche ieri ne ha sbagliato uno, di fronte alla porta. Se schiala, però, poi uno te lo fa sempre, vuoi perché è City, Guardiola, tutto quello che vuoi, però è uno che ha bisogno di tante palle gol. Cioè, me ne dai dieci a partita, tre, quattro le stampo, però un paio magari le canno clamorosamente. Vlaovic, proporzioni inferiori al Blasone, attuali, Juve City, Allegri, Guardiola. È vero che ci sono delle gare dove tocca una palla, alle volte fa gol. Penso quella con l'Inter, in casa, a passaggio di chiesa, o quando di testa la decide a Salerno. Però ci sono anche gare dove sbaglia. Un po' quel profilo. Bisogna di tante palle. Chiaro. Guarda, adesso la partita credo ci sia poco altro da aggiungere in realtà, perché non è che la Juve meritava sicuramente un altro risultato. I macro temi li abbiamo toccati. Al Carazzi, ti voglio chiedere che impressioni ti ha dato. È ancora un po' impreciso, però mi piace come tenda sempre a verticalizzare. Ha fatto l'assist, se possiamo intenderlo come assist. È entrato un po' un po' più nel vivo del gioco. È un giocatore che ha del potenziale. Poi deve sgrezzarsi in tante situazioni. Nel primo tempo, ieri, insomma, due o tre situazioni tecniche proprio le ha cannate, ha fatto ripartire il Napoli. Ieri, paradossalmente, a centrocampo, Miretti, che ha sbagliato solamente quella situazione a campo aperto dove doveva darla a cambiaso. Invece è per la tirare. Ha fatto un tunnel, è uscito bene dalla prima pressione. Ieri Miretti ha dato su me dei segnali importanti, come dire, io sono qui e ci sono. Cioè, se mi chiamate, quindi sono contento che Fabio ieri abbia fatto una performance sufficiente. Anche più che sufficiente. Allora, invece, voglio passare alla ciccia, alla ciccia vera anche del video. Le parole di Branchini, le parole di Giuntoli e, insomma, anche le parole di Allegri sul futuro della panchina. Onestamente, mi sembra che tutto si stia impacchettando per i saluti estivi, ma questo non lo dico oggi. Come ben sai, come ho detto sul tuo canale, come ho detto Juventus, sui miei canali, sono tre settimane con la sensazione che la Juve cambierà guida tecnica. Le parole di Branchini le ho trovate pesanti, ma non poco, tanto. Sì, quasi una mancanza di stima nei confronti... Anche un po' di rispetto, direi. Mi stanno dando i soldini che ti arrivano. ho letteralmente vivisezionato l'intervento di Branchini a Radio DJ. Allora, già che abbia parlato, Branchini non è uno che ama parlare e se lo fa è l'agente di Allegri. Perché poi qualcuno ha detto, no, ma non è l'agente di Allegri. Ieri è stato chiesto ad Allegri, il suo agente, non è che ha smentito. È una persona che è molto... Non lo so, vogliamo chiamarlo membro dell'entourage, persona vicinissima a Allegri. Ecco, sicuramente più vicino di tutti noi messi assieme. Quindi già che abbia parlato in questa fase, dopo che tra l'altro Allegri aveva parlato la mattina dicendo che sia chiaro del futuro, secondo me la direzione è molto chiara. E poi vivi sezionando, ti dicevo, le dichiarazioni di Branchini a Radio DJ quando dice con questa compagine societaria può accadere di tutto, è una dichiarazione grave. Cioè, cosa vuoi dire? Che sono direttanti allo sbaraglio? Eh sì, la cosa dice è in quel modo. No, io l'ho interpretata in quel modo, però magari un'altra interpretazione può essere con questa compagine societaria diciamo non sono coloro che hanno scelto Max per ritornare alla Juve, non c'è più Agnelli, che Rubini ha cambiato ruolo, discadenza, tra l'altro, capito? Però già che siamo alle interpretazioni, già che se ne parli non va bene, anche perché è giunto lì, cosa continua a dire in pieno politichese? A tempo debito, ecco, prendi tempo, no? Poi purtroppo il vero noccio della questione sono le performance perché quando tu vai male e la Juve stanno molto male in termini di risultati sai, alla fine si incendia ulteriormente il fronte, si parla solo di Allegri, si parla solo di... Ora, levo a te dal discorso e parlo di alcuni della tua categoria e ovviamente non vado a generalizzare su tutta la categoria. c'è una lotta estrema anche tra chi racconta e narra di calcio a livello mediatico. Cioè, ti faccio un esempio, nei vari talk show Pressing su Sky... Tu dici c'è una schiera molto forte pro Allegri. Molto, però secondo me si dovrebbe parlare più di calcio e meno di... Perché si parte da un presupposto sbagliato, cioè, è come Rome che adesso io e te abbiamo anche un... un rapporto che va oltre YouTube. Ci vediamo, magari andiamo a cenere. Ora, non incidandire qualcosa che non esiste. No, no. Io ragazzi altri gusti, no? Rispetto... no, dico proprio non mi far passare come un amico caro perché io ti conosco male. Bastardo, io ti voglio bene a livello professionale, ci mangiamo qualcosa assieme, ma è là. Però io se devo difendere lo faccio perché comunque con te hai già un rapporto rispetto a tanti altri, capito? E mi pare che ci sia lo stesso tipo di ragionamento anche nei vari talk show. Cioè, se si parla poco di calcio, si fa una difesa a oltranza senza compito. Fermo restando che credo che questo possa rivelarsi poi il vero punto di non ritorno, eh? Cioè, anche agli occhi della stessa Juve. Però, guarda, centriamo il prima possibile a questo obiettivo. Mamma mia. E poi si definisce questa questione ma onestamente a me sembra che la direzione stia prendendo proprio è chiaro dove ci si sta dirigendo. Poi non fanno bene queste dichiarazioni, eh? Perché noi stiamo scherzando col fuoco. Io sono sono abbastanza tranquillo sulla Champions. Però dietro spingono. La Juve ha un calendario terribile. Domenica santo. anche le altre. Io ho visto il calendario del Napoli, ho visto il calendario di qualcun'altra. Però io ti dico, sai, se Domenica non batti l'Atalanta e Milan fa quello che deve fare, sei già terzo. Quindi non sei più secondo. E magari se il Bologna batte l'Inter che ha la testa in Champions e tutto, il Bologna ti arriva più vicino. Cioè, capisci cosa voglio dire? Che basta niente per buttare. E la Juve lo sta già gettando all'aria, eh? Perché poi cioè, il girone di ritorno fin qui è stato mostruosamente brutto in termini di punti. Sì, sì. Vedi anche qua. Se Rugani non salva la Juve il novantaquattresimo. Sono la merda. Noi parliamo di tre punti, di quanti punti? Tre. Tre in sei gare. In sei gare. Guarda, ti dico anche un'altra cosa. No, due in sei gare. No, tre. Due pari. Due pari. Empoli e Verona è pareggiato. Ah, è vero, è vero. Ascolta, però. Ah, sì, perché col Fresenone giustamente pareggi non vai a perdere. Tu con la matematica hai dei problemi enormi. No, sempre avuti, è sempre avuti con la matematica. La cosa che però ti dico anche che accade nel discorso è che molti dicono ah, vabbè, ma sai molti giocatori che l'anno prossimo vedono una prospettiva senza Allegri magari danno tutto in questa stagione. Non è così, perché questa storia la sta accadendo. anche questa, perché dopo tutto questa questo ambaravam di news, eccetera, che secondo me vedono sempre Allegri più lontano dalla Juve per l'anno prossimo. Non è che abbiano partato a un miglioramento in fatto di stimoli di motivazione per quanto riguarda la partita. Poi ieri la Juve ha fatto una partita ma è anche col Napoli ci sta che ci sia un po' più di Pepe. Però Napoli peggiore spaventose mamma mia mai visto comunque anche quando la Juve ha vinto 3 a 1 ti ricordi col gol di Vidal nel finale io non l'ho visto un Napoli così no male male il Napoli infatti parliamo di una squadra che anche con Calzona sì è vero la vittoria con un Sassuolo disastrato pareggio col Cagliari pareggio col Barça difficoltà non è una squadra in salute il Napoli ma almeno ci arriva in Champions cioè vede il Bologna l'Atalanta la Roma ad oggi fanno molta fatica ad oggi fanno molta ma molta fatica però era l'ultima chiamata era l'ultima chiamata per loro ieri la Roma di De Rossi per esempio già la vedo meglio in termini di rendimento non lo so De Rossi ha dato veramente una rinfrescata tattica passando un altro sistema di gioco difesa 4 entusiasmo è più empatico però si ti fa capire come uno possa avere un'idea di una squadra ma possa anche cambiare radicalmente con nuovi concetti nuovi principi chiaro quindi tutta questa situazione come la riduciamo al fatto che adesso dobbiamo vedere da tifosi questa stagione ogni partita dopo partita come un'occasione per mettere tre punti nel carniere che ci avvicinano alla Champions e poi speriamo che già magari ad aprile abbiamo la matematica la certezza di essere qualificati e iniziamo a programmare di futuro questa è la la prospettiva che si può offrire la società saprà già cosa fare sicuramente noi dobbiamo vivacchiare dobbiamo vivere la giornata sperare che ogni partita possa andare meglio e vincere la Coppa Italia perché almeno quello è un obiettivo fattibile dai ma sarebbe anche secondo me una bella chiusura con Allegri cioè con un trofeo andato via con un trofeo se ne riandrebbe con un altro trofeo però ad oggi non ho sensazioni anche con la Lazio secondo me facciamo fatica anche se la Lazio non è che anche io l'abbia vista troppo bene ultimamente no però considera che l'affronterai tra un po' magari sarà fuori dalla Champions quindi avrà l'energia da spendere per quella poi la legge dei grandi numeri Sarri si fa sempre imbrigliare da Allegri prima o poi toccherà a lui poi tra l'altro affronteremo la Lazio anche in campionato a ridosso andiamo lì la Juve ha delle partite tremende Toro Toro che prima o poi una la vorrà vincere anche qui no? Cioè Divolo per quello in casa con la Fiorentina in casa col Milan le due andiamo a Roma andiamo a Bologna il Genoa il Genoa alle 12 e 30 pensate che sarà una passeggiata per la Juve no? sono partite dure a parte che sono tutte dure per questa Juventus però la cosa che mi ha colpito negativamente ieri qua chiudiamo e che pure una buona Juve nel suo piano gara pulita nelle uscite ha perso e prende gol a difesa schierata ho spaccato il tavolo per sbaglio prendiamo prendiamo gol a difesa schierata di nuovo perché è difesa schierata lì quello però accadeva sai tante volte anche quando si vinceva penso a Frosinone penso a Salerno penso a tante gare in cui la Juve ha preso gol stupidi ma ora sembra che uno viva sotto la nuvola di Fantozzi nelle ultime sei gare è andata bene solamente con con il Frosinone all'interno di una trama thriller dove a momenti non batti un'altra squadra in profondissima crisi ragazzi iscrivetevi al canale di Romeo forza e coraggio io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato fin qua aspettiamo le vostre opinioni sotto nei commenti iscrivetevi sì mi raccomando insultateci moderatamente grazie ciao ragazzi ciao ciao